Classifica alla mano il big match della quindicesima giornata di eccellenza è San Buceto Chieti, in programma al Mariani Pavone di Pineto. Ma il piatto forte sarà servito al Pigliacelli per il derby trilling tra Montorio e Real Giulianova. I gialloneri di Cipolletti, con l'acqua alla gola dopo tre sconfitte consecutive e l'ultimo posto a soli tre punti, cercheranno in tutti i modi di fermare la capolista. Piccioni si affiderà come sempre alla vena del bomber di Paolo, dieci centri finora, mentre i pandroni di casa, privi dello squalificato Durante, sperano in una giornata felice dei cecchini indiaie, ridolfi e gizi. Pronto ad approfittare di un eventuale passo falso del Giulianova è il San Buceto. La squadra di Tatomir non farà sconti al Chieti, reduce dal KO interno con la Torrese, che ha aperto vistose crepe nell'ambiente. Per i neroverdi un altro passo falso potrebbe già voler dire l'addio alle ambizioni di Primato. La vetta è già lontana otto punti. In zona play-off lo spoltore ospita la Miternina, mentre il paterno è atteso dal derby marsicano con il capistrello degli ex, su tutti il tecnico Iodice. Dopo la larga vittoria di Scoppito, che ha allontanato la zona play-out, l'alba adriatica attende al Tom Molini di Martinsicuro il Penne. Due squadre in cerca di continuità per tentare il salto di qualità. Nel girone A di promozione continua il botta e risposta in testa alla classifica tra Pontevomano, Virtus Teramo e Fontanelle. Turno sulla carta favorevole alla capolista, che affronterà in trasferta il Mutignano, penultimo con un solo punto di vantaggio sul Tossicia. La Virtus, che insegue a due lunghezze dalla vetta, deve vedersela invece con il Celano, scottato dal clamoroso KO interno con il piano della lente. Osservatore interessato il Fontanelle, terzo a meno tre dal Pontevomano, che tra le Muramiche se la vedrà con il giovane Cologna. Scontro diretto, con vista sui play-off, quello tra Luco e Pucetta. Avversario ostico invece per la Rosetana, che ospita il San Gregorio. Il Mosciano cercherà di mettersi a distanza di sicurezza dalla zona play-out, ricacciando in basso l'Alba Montaurei. Chiudono il quadro gli scontri diretti in chiave salvezza, Notaresco Santomero, Nuova Sant'Egidiese, Morro d'Oro e Tossicia, Piano della Lente. Grazie. Grazie.